Tutto lo Stato Maggiore di CGL Sicilia punta il dito sulla gestione del Consorzio di Bonifica di Ragusa, un caso emblematico per il sindacato che ha voluto tenere proprio nel capoluogo un incontro alla presenza del segretario generale Michele Pagliaro. Salvatore Carpinteri, segretario Flai CGL, ha fornito i contorni attuali della gestione dell'ente. Ha detto Carpinteri, i dipendenti aspettano 5 mesi di stipendi arretrati e i proprietari dei fondi agricoli si vedono arrivare bollette sempre più salate, prosegue invece l'azione responsabile di una gestione a dir poco disinvolta delle risorse finanziarie disponibili. Il sindacato ha posto inoltre l'accento sui compensi per il direttore e i dirigenti del Consorzio che ricevono risorse aggiuntive, stando a quanto riferito dai sindacalisti, rispetto a quanto accade nel resto della Sicilia. La CGL denuncia infatti che il direttore del Consorzio di Ragusa avrebbe ricevuto un compenso speciale di 46.500 euro, tre volte il limite massimo disposto dalle direttive regionali che hanno stabilito che tale compenso eventuale non può superare il limite massimo di 250 ore. Questa parese violazione si aggiunge al fatto che alla retribuzione annua di questo direttore e di questi dirigenti, prosegue il sindacato, è corrisposta inoltre un'indennità di funzione pari a quattro volte quella tabellare, tre volte quella per gli altri dirigenti. Ciò grazie ad un accordo in sede aziendale, prima bocciato dal Dipartimento regionale e poi sottoscritto con l'allora commissario Dario Cattabellotta. Sull'altro piatto della bilancia, gli operai costretti ad anticipare carburante e spese di manutenzione per assicurare lo svolgimento dell'irrigazione. È tragico che ci siano dipendenti, sottolinea il segretario provinciale Peppe Scifo, che non prendono lo stipendio da sei mesi e sono costretti ad anticipare somme per le spese. Da Ragusa è necessario porre in essere un punto di svolta, nel senso che è necessario cominciare un percorso in controtendenza rispetto al creativo funzionamento del Consorzio di Bonifica. L'agricoltura e il Consorzio sono elementi primari per lo sviluppo del compatto del nostro territorio, ha concluso Scifo. Per il segretario generale Pagliaro, dunque, la situazione di Ragusa è incresciosa, perché ci sono molte zone grigie, ma sono state date risposte convincenti, solo non nei fatti, ai rilievi a più riprese avanzate dal sindacato, per cui è urgente fare chiarezza e soprattutto procedere con fatti concreti. A beneficio di coloro che hanno ricevuto le bollette, bene ricordare che tali bollette sono state sospese fino alla primavera 2017. Grazie a tutti.